Il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della città metropolitana ha partecipato questa mattina alle operazioni di asportazione manuale lungo la sponda orografica sinistra del fiume Po all'altezza dei Murazzi di una pianta acquatica esotica, la Myrphillium aquaticum. Il Servizio Tutela della Fauna e Flora ha dato il suo contributo con un'azione di vigilanza e recuperando esemplare di fauna ittica che rimanevano impigliati nelle radici delle piante. Fra i pesci impigliati è levata la presenza di ghiozzi, un pesce considerato un significativo rilevatore ecologico nel certificare la qualità delle acque. Infatti nel liberare i pesci impigliati si è notata anche la presenza di numerosi macroinvertebrati bentonici, organismi visibili senza ingrandimenti particolarmente adatti al biomonitoraggio delle acque fluviali, in quanti molto sensibili all'inquinamento idrico. Le piante sono state asportate manualmente da una task force a cui hanno preso parte istituzioni, regione, città metropolitana, comune di Torino, ARPA, IPLA, associazioni di volontari di canottieri, GEV e protezione civile. Da credo un mese, due mesi è spuntata questa nuova pianta tropicale che in realtà non è spuntata autonomamente ma proprio probabilmente rilasciando contenuti degli acquari negli scarici o addirittura nel Po è nata questa nuova pianta che non è una pianta cattiva perché anzi ossigena proprio gli acquari, il problema è che soffoca tutte le piante autoctone del Po e quindi era un problema perché si espande molto velocemente se non veniva tolta con la prima piena poteva spandersi fino a valle. La sindaca della città metropolitana, Chiara Pendino, è intervenuta portando il suo ringraziamento alle squadre di bonificatori. Un lavoro che ha coinvolto tutte le istituzioni, che ha coinvolto anche molte associazioni che ci hanno dato una mano e insomma c'era una situazione da gestire e abbiamo messo le forze in campo per farlo.